Buongiorno, adesso parleremo, vi presenterò un corso fondamentale, basilare per l'ingegneria gestionale nell'ambito appunto della laurea triennale che è il corso di ricerca operativa. Il corso di ricerca operativa credo che non abbia bisogno di grandissime presentazioni. La ricerca operativa è ormai una disciplina cardine all'interno delle lauree dell'ingegneria a 360 gradi ed è sostanzialmente quella che noi definiamo attraverso delle introduzioni appunto dalla operations research o dal management science appunto quindi da termini americani la scienza delle decisioni. Si tratta sostanzialmente di entrare in un'ottica in cui l'ingegnere gestionale ha bisogno di strumenti quantitativi per poter modellare e formulare i problemi che nascono nel mondo reale, problemi che vengono dal mondo aziendale, problemi che vengono dalle pubbliche amministrazioni, problemi che vengono a 360 gradi nel mondo appunto professionale dell'ingegneria. Cosa si farà in questo corso? Un corso di 12 crediti formativi, quindi un corso particolarmente intenso ma interessante perché appunto verranno fornite due tipologie di strumenti, uno che è quello che viene conosciuto, che è conosciuto in letteratura come la teoria dei grafi e un altro è quello appunto della programmazione matematica. Inerentemente a questo secondo aspetto della programmazione matematica, chiaramente il corso avendo questa estensione di 12 crediti formativi non può prevedere appunto l'analisi, la valutazione completa di tutta la programmazione matematica ma verrà esplorata sostanzialmente la programmazione lineare e la teoria della dualità. Sostanzialmente parliamo per chi non fosse a conoscenza ovviamente di questi contenuti, di strumenti necessari, ripeto, essenziali per poter avere dei formalismi corretti, matematici, per l'ingegnere gestionale per la rappresentazione di tutto ciò che ci circonda, di tutto ciò praticamente che può essere espresso sotto forma decisionale e di ottimizzazione. Il corso è particolarmente avvincente perché sostanzialmente pone in qualche modo i primi passi verso quella che è in qualche modo la conoscenza di una delle anime essenziali del corso di ingegneria gestionale, ovvero appunto la disciplina MAT 09, la ricerca operativa e chiaramente da qui, da questo primo presidio della ricerca operativa nel campo dell'ingegnere gestionale laurea triennale, si muoveranno poi passi verso i corsi più importanti anche superiori applicativi della ricerca operativa appunto successivi. Un occhio importante diciamo va dato allo studente a questo corso proprio nell'ottica della sua formazione generale come ingegnere gestionale. Grazie.